Mertens Due a tre quarti, l'assist per Mertens, area di rigore Mertens La doppietta, questa volta la trova Secondo Paolo Andanovic, prima dell'arrivo di Albiol Che l'ha cross per Insigne Lorenzo Insigne 3-0 Napoli Al posto giusto Lo spazio per il destro, quel cross Di Cagliecon e Insigne Rompe la maledizione E fa 1-0 Napoli Al secondo della ripresa Mertens Area di rigore, Mertens Con il destro La firma di Tris Mertens Il Napoli trova il corte Va Mertens con il destro E la palla in rete, Napoli 2 Torino 0 Corre Insigne Fronte Hernanes, palla sul destro Cerca dentro Cagliecon Posizione regolare Cagliecon Jose Maria Cagliecon Juventus 1 E Napoli 1 Mertens Gira Mertens Il pallonetto E la palla in rete Lavoroso questo gol Di Dries Mertens Il gol del 5 a 2 Amsic Si muove Strinc Si va in area Mertens Mertens Che gol Quello di Dries Mertens Una magia Ritaglia Lo spazio Per liberare il destro E caggia È scatenato Insigne Con Dries Mertens Ancora lui In area di rigore Tutto solo Mertens Mertens Campo di spazio Gazzano prova Prendelo Insigne Se c'entra Insigne Loretta di Insigne Capolavoro Di Lorenzo Il Magnifico 1-0 Napoli Crossa ancora L'albanese Occhio a Wittmer E stavolta Insigne Ringrazia Scarta al regalo E le 2-0 Napoli Pasticcio Bene per Insigne Schierata Prova la Fiorentina Insigne Scarta a Culamba Passo a destro Prova a calciare Insigne Lorenzo Insigne Una magia Un gol magnifico Di Insigne 1-0 Napoli Quinto gol Nel campionato